Siamo qui a Trieste all'Accademia Craniosacrale Italia e siamo con Diego Mazzucco, fondatore dell'Accademia. Che cos'è la tecnica craniosacrale? Allora, la tecnica craniosacrale ha un livello internazionale meglio conosciuta come Craniosacral Therapy, il nome che le è stato dato dal suo fondatore, il dottor Opleger, un medico americano nel stato della Florida, dove negli anni Ottanta ha aperto un centro per divulgare questa terapia. È un'evoluzione dell'osteopatia cranica e come tale, in questa evoluzione, poi ha continuato a evolverla e portandola da una metodica a una terapia di per sé, sempre conosciuta qui in Italia comunque come tecnica. In cosa consiste esattamente? Dunque, questa metodica, questa tecnica, si avvale sulla percezione e sulla conoscenza del sistema craniosacrale, un sistema fisiologico. E si prende cura con le persone che così richiedono per migliorare la loro enostasi. Certo, lei è stato studente diretto del dottor Opleger e ha deciso di portare in Italia questa tecnica. Sì, durante i miei studi di osteopatia in Gran Bretagna ho conosciuto il dottor Opleger come ad un intervento con cui ho collaborato con lui in un ospedale. Dopodiché sono stato invitato al dottor Opleger stesso ad andare in America a continuare i miei studi con lui e dopodiché ancora una volta mi è stato chiesto di rimanere in America. All'epoca però ho fatto una scelta, visto che in Italia a craniosacralia è una tecnica craniosacrale che non c'era, di venire in Italia e portare questa metodica in Italia. Lui mi ha dato il permesso e nel 2005 sono rientrato in Italia e da oggi questa tecnica craniosacralia va avanti qui in Italia. Continuiamo a divulgarla. Ecco, cosa fate all'interno dell'Accademia? Allora, abbiamo dei ruoli particolari. Applichiamo queste tecniche a delle persone che richiedono queste tecniche per il loro benessere e poi divulghiamo questa metodica sia a personale sanitario che a operatori del benessere con dei stage di formazione nel tempo per far sì che queste persone possano poi utilizzare nel loro campo questa modalità, questa tecnica o questa therapy. Grazie mille. Prego. Grazie. Grazie. Grazie.